In fin dei conti noi studiamo come dirigerci al Creatore, perché se possiamo convincerlo di aiutarci, allora con questo noi saremo già sistemati, organizzati e sicuramente avremo successo. E la preghiera, quando la persona arriva alla decisione che solo la preghiera lo può aiutare, già esige da noi una relazione speciale anche verso tutta la creazione, che io devo vedere quindi tutta la creazione come un solo sistema che ci è stato dato per imparare da lei, come stabilire la mia forma di dirigermi al Creatore, che la maniera in cui mi dirigo al Creatore sia dalla profondità del cuore, da un desiderio vero, senza calcoli, senza tutti i tipi di calcoli esterni, ma il desiderio più possibile. Il mio desiderio è godere con il fine di ricevere, quindi quanto io raggiungo la necessità di dare, questo è quello che io devo elevare. Da dove prendere questo? Ci dicono solo per mezzo del fatto che tu sei sotto l'influenza dell'ambiente, che se non fosse per il peccato dell'albero della conoscenza, se non fosse stato per la rottura dell'anima, mai potremmo assomigliarci al Creatore. Che la necessità della rottura è che invece del mio corpo un desiderio che era come era prima del peccato, io comincio a sentire qui che ho parti estranei, io li guardo a loro, li osservo come estranei e quindi io posso impressionarmi di loro. E specialmente l'impressione è per l'invidia, perché io sono un desiderio di ricevere, quindi se io sento che c'è in loro qualcosa in più di quello che io ho, allora io invidio e per mezzo di questo io raggiungo la mancanza per essere in qualche maniera come loro. E allora chi è grande, la sua passione è grande e così in questa maniera raggiunge un desiderio di assomigliarsi a loro. di levarsi sopra se stesso, questa invidia lo mantiene, lo aiuta a cambiare. Il desiderio per il cambiamento, la mancanza e il desiderio per questo cambiamento, per questo cambiamento personale, è una mancanza che si può ricevere solo dall'ambiente. e questa mancanza deve essere anche per poter dare. Non che io voglio essere più di quello che sono io, come per esempio gli amici, no? Io voglio arrivare ad essere chi dà. Io ricevo da loro l'esempio per essere in dazione, un datore. E per questo se noi formiamo una società dove tutti aiutano tutti, con esempi per essere colui che dà, l'invidia, la passione, il rispetto, che tutti stiano bene e così che questo fiorisca nel gruppo, che questo viva nel gruppo, che tutti possiamo sentire quanto noi abbiamo bisogno di invidiare gli altri con una buona invidia. Una buona invidia che io invidio le buone qualità che vedo, che identifico negli amici. e allora quando noi così ci impressioniamo del gruppo, degli amici, questa mancanza per essere colui che dà di più, colui che è più in dazione, colui che è più connesso, questa mancanza si chiama manna. Perché? Perché il desiderio? Già, che è Malchut, Nukvin, vuole essere rivestito con l'intenzione di Mei, Mei Nukvin, con il fine di dare. E già questa mancanza invita la forza che corregge, la luce che riforma e succede la correzione. Possiamo vedere da questo che la cosa principale è l'ambiente. Il lavoro dell'ambiente sulla persona, in tal maniera che veda quanto è minore di loro, meno di loro, per arrivare alla dazione, quanto ha bisogno di imparare da loro, assomigliarsi a loro. E quanto insieme eleviamo una preghiera. E così avanziamo.